Un solo ordine regola il cielo e gli esseri viventi. Due uomini uniti come uno solo. Fratelli. Tra voi due c'è un solo re. Fonderà un impero nuovo. Come mai il mondo ne ha conosciuto? E come mai ne conoscerà negli anni a venire? Sik, devi perdere. Questo chiedono gli dèi. Ciao ragazzi, voi siete amanti dei film di Federico Fellini? Spero di sì. Forse non sapevate che all'età di 18 anni il grande regista italiano lavorò nel giornale satirico romano Marca Aurelio, fondato nel 31 da Oberdan Cotone e Vito Debellis. Fellini realizzava vignette divertenti e sequenze illustrate oltre alle celebri storie di Federico. Per oggi è tutto. Se ancora non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi qui sotto e cliccate la campanellina per ricevere le notifiche. Ciao, a presto.